Siamo arrivati al numero 4, quarto brano, quindi il titolo è Carezza La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese Questo autore, abbiamo quindi la banda musicale con un sonista al sax contralto, vi inviterò ad alzarsi per prendersi l'applauso Francesco Scogna Milo Sistirete veramente delle note particolari di uscire da quel sax Se siamo pronti, la banda musicale dirige il maestro Pietro Dore La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese La musica di Lorenzo Cucetti, dal cognome credo che sia milanese Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti